Musica Approfitta dell'eco bonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a Sandona di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. L'alta pressione consolida la sua presenza sull'Italia, dunque anche sul nostro territorio. Le previsioni sono decisamente buone. Vediamo il dettaglio di giovedì 13 gennaio. Sul Veneto permangono condizioni di tempo stabile, con cielo sereno. Possibile qualche nebbia nelle prime ore sulla pianura meridionale, precipitazioni assenti. Venti in pianura fino al mattino, bora moderata, tratti tesa sulla costa. Nel corso del pomeriggio tendenza ad attenuazione e rotazione dei venti da ovest. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sotto zero dappertutto, massime tra 4 e 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso non cambia lo scenario. Ampio soleggiamento ovunque e cielo limpido. Temperature minime tra meno 3 e 1 grado, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento. Sarà una giornata con cielo anche qui terzo e limpido. Temperature minime intorno ai meno 2 gradi, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Approfitta dell'eco bonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a Sandona di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Contattaci per un preventivo gratuito.